Considerazioni personali Concertazione è questa la parola chiave, un diritto sancito dalla legge e rivendicato oggi dalle associazioni dei consumatori che hanno incontrato questa mattina Eugenio Dorsi in qualità di presidente del lato idrico e il suo delegato Paolo Ferrara Si delvia così a un tavolo tecnico per dare voce ai consumatori sul caldo argomento delle nuove tariffe idriche proposte da Girgenti Acque ma ancora non approvate dall'Assemblea dei Sindaci Abbiamo già istituito un tavolo questa mattina che sarà il primo di una lunga serie che ci saranno delle riunioni cadenzate La provincia non può non essere attenta alle stanze che provengono dall'utenza dei cittadini quindi vuole coprire tutto il territorio provinciale, sta svolgendo oggi il proprio dovere Soddisfatti chi più chi meno i responsabili delle associazioni dei consumatori che comunque apprezzano l'apertura di Dorsi La disponibilità da parte del presidente l'ha data e questo noi la ammiriamo e la incassiamo questa sua disponibilità Vedremo di avere una riunione, quindi un tavolo tecnico con i tecnici e con il presidente per stabilire assieme quelle che possono essere le norme, le normative, il regolamento, le tariffe in sé per sé e poi portarle a Palermo dal commissario Noi abbiamo un'idea di tariffa, un'idea che possa tenere conto del nucleo familiare, del reddito, delle fasce sociali un'idea che tenga conto di quella che oggi è la rappresentanza esatta di ciò che succede qui nel paese reale e di questo ne vogliamo parlare A quel punto poi ci confrontiamo e vorremmo che il commissario partecipasse a questa riunione dove insieme con noi ci deve essere anche il presidente del lato idrico Per poter evitare che vengano approvate queste tariffe che sono illegittime ed ininque perché non rispettano quelle che sono le convenzioni, il piano POT che regolano i rapporti tra il lato Girgenti Acqua e tra Girgenti Acqua e gli utenti quindi bisogna dire questo per completezza c'è stato assicurato, anzi garantito dal presidente Dorsi che faremo a breve una riunione entrando nel merito delle tariffe prima che queste vengano approvate così come sono